Fabio Belaso, una partita tosta, dura, vinta dalla Lube in rimonta. Sì, una partita tostissima. Loro hanno giocato al massimo, hanno tirato tutto, qualsiasi palla, sicuramente grazie anche a Katzinski che con i suoi nuovi innestri si sono riportati molto. Noi però siamo stati molto bravi e concentrati a rimanere lì, a portarci a casa questa vittoria. Cosa ha fatto la differenza? Sicuramente la nostra battuta, ma anche il nostro muro di difesa, che questa sera abbiamo lavorato bene in questo fondamentale. Un messaggio a Perugia, questo che la Lube non molla mai? Sì, sicuramente deve essere un messaggio per loro, perché comunque noi non molliamo mai e giochiamo fino all'ultimo pallone.